bello ragazzi ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ragazzi sono i trojer gamer allora ragazzi questo sarà un video un pochino insolito ragazzi sto facendo per il compleanno di giova ragazzi oggi compie gli anni gli facciamo tutti i nostri auguri migliori auguri video che mi ha chiesto di fare allora ha detto facciamogli questo regalo a gio va vi ricordo comunque gli appuntamenti giornalieri per quanto riguarda le live 18 e 30 20 e 30 tutti i giorni ovviamente nel limite del possibile e ci vediamo stasera su bravo stars ragazzi ciao ragazzi evitate di mandarmi le richieste perché si blocca si bagga il gioco il bello è che poi sarò giù ma sei impazzì oddio santissimo giova 50 oh yeah oh cristo gio ma sei impazzito mamma mia gio ma non guarda non guarda non ho la 96 euro e 3 gio ma perché oh yeah ma perché giova ciao silvio cicliatello buonasera ragazzi grazie giova non so veramente come ringraziarti bro io troppo sto fanno partita allora ragazzi allora facciamo una cosa intanto fatemi sbloccare gli eventi così mi prendo la robetta qua no no sto me da non fate così da ragazzi da per favore dai ma perché allora ragazzi facciamo una bella roba c'è ricercati allora dai la facciamo allora facciamo entrare dark iona vediamo se c'è e invitiamo anche arman che c'è si ragazzi si ragazzi allora facciamo una cosa giova gio ma sei impazzito bro ma che c'hai oh yeah ma annaccia la miseria gio ma ma spendeli per te i soldi bro sono tantissimi ma la sta dovrebbe stare la vabbè comunque quattro squadre rimaste si ragazzoli comunque l'importante è che siate iscritti al channel ragazzi ma giova a me dovevo detto di no madonna c'è giova sei impazzito bro oh no ma sei impazzito ma sei impazzito veramente ragazzi cioè ma io veramente non so ma io non so veramente che dire ma è impazzito ragazzi fermatelo vi prego ragazzi fermatelo veramente ragazzi fermatelo e Ciao